Luglio tradizionalmente è il mese dei saldi estivi, le svendite che possono dare fiato ad un settore spesso in difficoltà. Non quest'anno però, dove a causa del lockdown si è deciso uno slittamento dei saldi al prossimo mese di agosto. Una scelta che però adesso alcuni commercianti rinnegano. Secondo ConfCommercio, ad esempio, se a maggio le vendite erano calate del 50%, adesso si arriva a picchi dell'80-90% con alcuni negozi che vivono una situazione tragica e sono al limite della chiusura, dice il Corriere Fiorentino Aldo Curzano, presidente di ConfCommercio Firenze. L'avvio dei saldi estivi, posticipato dal primo sabato di luglio al primo agosto, è stato voluto da Federmoda, approvato dalla Conferenza delle Regioni e adottato da tutte le venti, escluse Sicilia e Calabria. Se inizialmente la scelta era stata condivisa da quasi tutte le associazioni di categoria al fine di consentire di vendere la merce a prezzo pieno, adesso ci si sta accorgendo che gli effetti non sono stati quelli sperati. Da un lato perché le città, con il periodo delle ferie, sono praticamente mezze vuote, dall'altro a causa della crisi economica. Il rischio è quello di cadere nelle svendite selvagge, commercianti che applicano comunque un ribasso dei prezzi, in barba a qualsiasi regola, per cercare di far fronte ad un'emergenza vera. Ci sono negozi di abbigliamento che incassano 50 euro al giorno, ha spiegato Curzano, e il livello di stress dei commessi e dei titolari è al limite del sostenibile.